Il flag golf di Termini Merezi ha dato inizio ad un nuovo percorso di consultazione partecipativa per la creazione di una strategia di sviluppo locale condivisa volta all'elaborazione del nuovo piano di azione. Il primo incontro si è svolto a Bageria. Oggi è una giornata di animazione territoriale per poter concertare con gli attori locali quali sono le tematiche e quali sono le istanze che arrivano dal territorio per poter essere inserite nel programma di azione locale e proporlo alla regione entro il 3 ottobre per poter finanziare delle iniziative locali che creano lo sviluppo nel territorio. Il flag ha un territorio molto vasto perché va da Bageria a Pollina. Sono dieci comuni che hanno avuto già un'esperienza positiva nella passata programmazione. Si sono gettati i presupposti per creare le condizioni di sviluppo sul territorio attraverso la realizzazione di centri di raccolta del pescato per sviluppare il chilometro zero di acquisto e per dare valore aggiunto al pescato locale. Si è creato un portale www.lacostadoro.com per la promozione del turismo sul territorio. Si sono fatte delle azioni precise all'interno delle scuole, delle dieci scuole medie del territorio di educazione ambientale e di educazione alimentare con i ragazzi. Questo per sensibilizzare le nuove generazioni verso delle tematiche che hanno un interesse precipuo per l'Unione Europea. Con l'odierna programmazione noi ci riproponiamo di partire da quello che si è fatto nella passata programmazione, rilanciare, aggiustare il tiro se è il caso di aggiustare il tiro e creare le condizioni per politiche di sviluppo sul territorio attraverso un approccio che viene dal basso, cosiddetto bottom up, cioè sentendo i protagonisti del territorio e facendoci dire quali sono secondo loro le prerogative per creare sviluppo, raccoglierli e sintetizzarli all'interno di un piano di azione, sottoporlo all'attenzione dell'autorità regionale preposta alla valutazione ed eventualmente riuscire ad eseguire quanto previsto nel piano approvato nei prossimi tre anni. Il flag è quindi un'opportunità per tutti i comuni che ne fanno parte. Ascoltiamo il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque. È un'opportunità per tutti i soci pubblici, quindi i comuni che hanno la possibilità insieme ai privati del territorio di concertare e di comprendere quale deve essere la nostra linea di sviluppo. Ci sono otto misure, otto possibilità da cogliere. In questa sede e in queste varie concertazioni dovremo sceglierne due. Quindi ci sarà da parte nostra maggiore attenzione in particolare per la filiera della pesca, quindi i pescatori e vedremo se ci sarà la possibilità di cogliere le opportunità relative all'indotto turistico per il borgo marinaro di Aspra in particolare. Ovviamente si deve parlare di tutto il comprensorio e delle opportunità che questo strumento mette a disposizione dei nostri comuni. È importante anche la possibilità di mettere a sistema tutte le fonti di finanziamento, quindi quelle relative al flag, quelle relative al gal, ecco perché flag e gal si parlano e quindi concertano assieme. Quelle relative alle iti, quindi all'agenda urbana che Bagheria sta facendo con Palermo. in modo da non accavallare vari interventi sulle stesse misure. Quindi l'attenzione è diretta alla programmazione che finalmente sembra che stia per cominciare e a quelle che possono essere le opportunità per il nostro territorio. Grazie per la visione! Grazie a tutti.